Geox, un grande marchio italiano, calzature innovative e capi di abbigliamento sportivo. Geox Lifestyle Casual, i primi in Italia. Geox ad Avezzano, nel centro commerciale I Marsi. Geox Lifestyle Casual. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti I got money in my pocket but I got no change You can check into my wallet but it feels so strange I got money in my pocket but I got no change You can check into my wallet but it feels so strange Ma che musica alternativa stasera, grazie, grazie ragazze, grazie ragazzi Geox, un grande marchio italiano, calzature innovative e capi di abbigliamento sportivo Geox Lifestyle Casual, i primi in Italia Geox ad Avezzano, nel centro commerciale Imarsi The time's come to 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 The world The time's come to The world The time's come to Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie ragazze, un bel applauso per voi.